Non archiviate la morte di Elenia. È questo l'appello che arriva da parte di familiari ed amici della giovane volontaria dell'EMPA rimasta uccisa nel terribile schianto del novembre 2019 in via di Ristradella, nei pressi di Olmo. Quel giorno la giovane stava andando al lavoro quando un'auto, proveniente dall'opposta direzione, le piombò addosso e la colpì in pieno. Attimi drammatici che saranno ripercorsi il prossimo 14 settembre nelle aule del Tribunale di Arezzo in udienza preliminare. Nello stesso giorno, fuori dal Palazzo di Giustizia, si svolgerà una manifestazione per chiedere giustizia per la ragazza. Secondo la tesi difensiva, sostenuta da legali David Scarabicchi e Giulia Broggi, l'uomo al volante dell'auto che la travolse, un 49enne a retino, sarebbe stato colto da un colpo di sonno improvviso a causa di una patologia, la sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Nei giorni scorsi, invece, illegale dei familiari di Elenia, l'avvocato Francesco Valli, ha depositato una memoria nella quale prende in esame la dinamica che ha portato all'impatto e punta il dito sulla velocità dell'auto condotta dal 49enne. Nella sua ricostruzione, sottolinea come il SUV viaggiasse a 70 km orari in una strada dove il limite invece è 50. L'udienza preliminare potrebbe già concludersi la prossima settimana. Per questo, gli amici e i familiari di Elenia hanno deciso di scendere in piazza per chiedere verità e giustizia.